Sei triste se li portano via due giorni No, no, questo è bellissimo perché ho le fotografie le persone, non lo so che prendono le fotografie e dopo le foto le fotografie in casa ma questo è bene perché prendo che non è mio quindi come on come on va, va, va va, va, va va, va, va è incredibile Oh La città Grazie.